Benvenuti allo Stagista Podcast. Dentro questa scatola sono contenuti tre oggetti che dovrebbero farmi indovinare che mestiere fa e soprattutto chi è la persona di cui diventerò stagista in questa puntata. Sono tre oggetti che potrebbero essere legati alla sua vita lavorativa, come no, nel senso che l'ospite ce li ha suggeriti, ma potrebbero anche essere legati a sue passioni personali che nulla hanno a che fare col suo lavoro. Io naturalmente invece spero siano collegati al lavoro perché almeno vorrebbe dire che riuscirò a indovinarli. Quindi apriamo la scatola e scopriamo insieme quali sono gli oggetti. Ok, devo dire scatola molto grande, gli oggetti sono molto piccoli. La prima cosa, non ho idea di cosa sia, credo sia il trolley di Barbie. Beh, devo dire, è molto molto bello. Diciamo non è l'ideale se volete tutelare la vostra privacy. Ecco, non vi consiglierei di viaggiare con questi in aeroporto se non volete che gli addetti dell'aeroporto si facciano gli affari vostri. Perché è completamente trasparente e ci sono due sneaker molto belle dentro. Quindi, vabbè, una persona che ama i viaggi. Chi è che non ama viaggiare? Ottimo indizio. Andiamo avanti con... Il prossimo oggetto sono delle carte con su scritto delle note musicali. Quindi una persona che sicuramente ha una grande passione per la musica. Quindi questo è un altro indizio che può tornarmi utile. Quindi viaggio, musica. L'ultimo oggetto è una clessidra. Una clessidra che serve per misurare il tempo. Un oggetto che tutti conosciamo, un oggetto anche antico, nobile. Dico cose a caso perché in realtà non ho capito minimamente dove mi vogliono portare questi oggetti. Allora, sono in difficoltà ragazzi. Sono in difficoltà perché viaggio, musica e tempo potrebbe essere... Allora, proprio perché sono la musica e i viaggi, sono due cose che fanno stare bene. So che sbaglierò, però secondo me la persona di cui divento stagista in questa puntata è una persona che si occupa di felicità, nello specifico una chief happiness officer. Continua, continua, continua. Questi indizi mi fanno capire che in questa puntata sarò lo stagista di una persona che viaggia moltissimo, di una persona che ama la musica e soprattutto di una persona che deve dosare il proprio tempo perché ne ha molto poco, quindi deve scegliere bene a chi darlo. E cioè un amministratore delegato, nello specifico un grande uomo d'affari che secondo me si è inventato un corso di laurea. Ed è lui? In questa puntata sono lo stagista del CEO dell'amministratore delegato di Epicode, Ivan Ranza. Ciao Ivan, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Grazie di essere con noi. Partirei dai tre oggetti che ho utilizzato per un po' fatica a indovinare che saresti stato qui con noi oggi. Spiegami perché hai scelto proprio quegli oggetti e partirai proprio dal magico trolley di Barbie che non credo sia quello che tu utilizzi nella tua vita di tutti i giorni. Sì, anche se il colore del mio trolley è abbastanza simile a quello di Barbie perché non è rosa, ma è un rosa un po' più scuro. Immagino non sia neanche trasparente. Non è trasparente, no, no. Però sarebbe divertente se fosse trasparente perché così potrebbero vedere cosa c'è dentro. Niente, computer e vestiti. Se uno non ha nulla da nascondere. Non ho niente da nascondere. Trolley perché è il movimento. Mi muovo molto da sempre. Credo che se tu ti muovi il mondo si muove con te. Quindi credo molto che chi si muove è capace di creare, chi sta fermo non crea niente. Quindi ho sempre cercato nella mia vita di forzarmi a muovermi, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Poi le cose sono sempre molto legate. Poi ci sono le note musicali. Le note musicali perché è una mia passione la musica. Io avrei voluto fare il musicista e il cantante, ma poi a un certo punto mi sono reso conto che suonavo malissimo la chitarra. La mia voce non era particolarmente distintiva. Però ci hai provato per un periodo? Non abbastanza. Non abbastanza. No, non ci ho provato perché ho visto che non avevo il talento necessario per poter fare carriera in un mondo molto competitivo e molto bello. Però è rimasta una grande passione e in tutte le cose che ho fatto nella mia vita la musica è sempre stata una compagna e ho cercato anche di portare le cose che ho imparato dalla musica nel lavoro di tutti i giorni e nella quotidianità. E poi immagino che se a una cena con degli amici c'è una chitarra tu comunque non ti fai cogliere impreparato. Sì, non mi faccio cogliere impreparato, non tocco la chitarra. Ah, ok. C'è sempre qualcuno più bravo di me a suonare. Però mi riconoscevano la creatività. creatività. Ecco, la cosa che mi riconoscevano è che scrivevo, scrivevo insomma una parola grossa, però insomma avevo una discreta capacità di creare dei buoni ritornelli. Bello. L'ultimo oggetto che ci hai suggerito invece è una clessidera, però immagino che il tempo sia molto importante nella tua vita. Sì, il tempo è importante nella mia vita, ma è importante nella vita di tutti. E poi più passano gli anni, più il tempo che hai davanti è meno e quindi diventa più prezioso. Per me è il tempo più prezioso di quanto non lo sia per te, no? Perché ho più del doppio della tua età e quindi ovviamente più passa il tempo e più la clessida ti rendi conto di quanto hai poco tempo a disposizione e di quanto lo vuoi impiegare solo nelle cose, nelle persone che ti danno valore aggiunto e ti danno soddisfazione. Il tempo poi secondo me è un tema che tornerà nella nostra conversazione. Io sono felice di poter essere il tuo stagista perché lo racconto a tutti coloro che magari non conoscono ancora la tua storia. È veramente particolare, nel senso che tu per tantissimi anni della tua carriera hai lavorato nel magico mondo dello spettacolo, dei media, della pubblicità da grande dirigente, di quelli che stava sempre con la giacca e la cravatta, immagino. Beh, oddio, sì. Ok. Quando ero in MTV no, però sì, quando ero lavorato in Mediaset sì. Ok, quindi una… Era obbligatorio. Veramente? Beh, negli anni 80 sì. Eh certo. Io ho iniziato… Non c'era la roba di vai in ufficio con la tuta, queste cose moderne di oggi. Io ho iniziato, ho fatto la tesi, tra l'altro ho fatto una tesi sull'intelligenza artificiale applicata al mondo televisivo. Negli anni 80? 94. Nel 94. Nel 94. Nel 80 ho detto, ho sbagliato, negli anni, nel 94. Mi hanno assunto per questa tesi e poi ho capito che la mia tesi tendeva a rendere efficiente la pubblicità, ma tu i soldi li facevi con l'inefficienza della pubblicità. E quindi praticamente ho capito che era meglio cambiare strada e mi sono messo a fare il venditore in Publitalia. E all'epoca ci voleva la giacca e la cravatta. Era proprio obbligatorio. Quindi, per chi si lamenta che magari, non so, al giorno d'oggi non può lavorare la casa e dice, dai, ma nel 2024 non solo c'erano anni in cui bisognava andare sempre in ufficio, ma bisognava anche vestirsi. Anzi, ti dirò, c'avevo il capo che se uscivo alle sei e mezza di sera mi diceva, oggi è mezza giornata il patto. Part time. Certo, questo era gli anni 90. Con le cose positive o negative, oggi siamo per fortuna molto migliorati nella qualità, anche nel rapporto lavorativo. Prima di raccontare bene invece cosa fai oggi, quindi questo cambio di vita che da qualche anno a questa parte hai avuto, che sarà un po' l'oggetto principale della nostra conversazione, non posso non chiederti, non posso non farti una domanda sull'intelligenza artificiale. Nel senso che scrivere una tesi sull'AI, che è un argomento attualissimo, nel 1994 hai detto? 94. Nel 94, voglio dire, dire che era da precursori è forse dire poco. Cosa si sapeva ai tempi sull'intelligenza artificiale? Guarda, non si chiamava intelligenza artificiale, si chiamavano reti neurali artificiali. Un nome ancora più ansiogeno. Un nome ancora più ansiogeno. Considera che però la base dell'intelligenza artificiale è la stessa, sono sempre le reti neurali e i modelli matematici che sono alla base dell'intelligenza artificiale attuale sono gli stessi. Mancava la capacità computazionale all'epoca, cioè non c'erano i computer, era molto difficile lavorarci, ma funzionavano già. Quando io ho fatto la tesi mi ricordo che, per farti un esempio, la metropolitana di Tokyo nel 1990 già non aveva autisti ed era guidata da sistemi di reti neurali artificiali, cioè era guidata dall'intelligenza artificiale. Adesso è diventata famosa perché è diventata popolare, ma sono 50 anni che ci sono studi e ci sono approfondimenti sul tema. Adesso con C.A.G.P.T. e Affini è diventata una cosa popolare, accessibile e sono diminuiti i costi di accesso. Quindi è più facile avere a che fare. Perché l'avevo fatta? La verità è molto semplice perché avevo un professore che era un pazzo, che insegnava informatica, che peraltro l'ho rincontrato ultimamente, che aveva fatto un master, un master degree all'MIT. Era tornato dicendo questo sarà il futuro. Io lo incontrai. Lui era il direttore dei sistemi informativi, così si chiamava il mondo IT di Fininvest. Lo incontrai, era simpaticissimo, un napoletano straordinario. Io gli dissi che volevo fare qualcosa di innovativo. Lui mi racconta questa roba e gli dissi guarda, ero appassionato dal mondo del media, della televisione e così. Dici guarda, voglio provare ad applicare questa cosa che mi hai raccontato, la studio, e l'applichiamo a rendere efficiente il mondo della pubblicità. Una cosa che all'epoca era abbastanza senza senso, devo dire la verità. Però sai, sei uno studente, era molto divertente. E già i tempi, quindi 30 anni fa esatti, si parlava dell'AI che un giorno ci toglierà il lavoro, discorsi così, no? Ma io penso che sia una stupidaggine questa che ci toglierà il lavoro. No, no, personalmente credo che sia una grande sciocchezza. Anch'io però è una cosa, credo sarei d'accordo, che si sente dire spesso da chi lavora in quel mondo lì. Ma in realtà a chi lavora in quel mondo lì non dice questo, ma ha dei temi di bias, cioè l'intelligenza artificiale è pericolosa perché è un cervello pensante e in funzione di come tu gli fai i training i risultati sono diversi. Si toglierà il lavoro, sì, a certe professioni, ma ne creerà tanto altro, no? Che ne so, quando è stato inventato il motore a scoppio, se tu eri uno che guidava i cavalli o si occupava di motori a vapore, probabilmente hai perso il lavoro, ma hai creato una nuova filiera produttiva, hai migliorato la vita delle persone, l'intelligenza artificiale migliorerà la vita delle persone. Su questo non c'è dubbio. Cambierà il lavoro, ci sono dei temi etici molto delicati e quelli sono, secondo me, il tema, ma i temi etici ci sono anche su internet, no? Sui social, per tutto ciò che è certo. Eh beh, sono dei temi pazzeschi. Per tutto ciò che è nuovo. Beh, voglio dire, a molti di noi è capitato che magari tu racconti, dici delle cose e poi TikTok ti propone esattamente quello di cui hai parlato al telefono. quello è un tema etico, secondo me, non banale, no? Molto più dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento, ma il tema etico sta anche sui social. Grazie per questo. Sono un po' noioso? No, è interessante, anzi… Sono un po' troppo boomer, dimmi. No, non sei assolutamente boomer, sei molto giovanile anche nel modo di raccontare le cose più giovane di me, sono io il vecchio in questa situazione. Veniamo al presente, Ivan. Abbiamo brevemente accennato alla gran parte della tua vita lavorativa. Poi succede che, se non sbaglio a cavallo tra il 2019 e il 2020, tu inizi la professione, maggior anche un po' per caso, che poi siamo qui per raccontare. Cioè, crei e diventi responsabile di EpiCode. Ti provo a dare la definizione che credo sia giusta di EpiCode. Poi naturalmente mi dirai tu se ci ho azzeccato o meno. Però a me quello che ha colpito è che tu dici ci sono un sacco di ragazzi, poi non solo giovani, cioè persone in generale, che magari hanno un diploma, magari hanno fatto un percorso di laurea, ma non sanno cosa fare della propria vita. E magari sarebbero anche disposti a dire, vabbè, voglio trovare un lavoro specifico, voglio provare a fare questa cosa piuttosto che un'altra, però non hanno quelle competenze specifiche, perché hanno studiato altro, hanno fatto percorsi molto generici. Dall'altra però ci sono le aziende che comunque, soprattutto in determinati campi legati alla tecnologia e all'informatica, invece hanno bisogno di queste persone. Tu con questa realtà hai provato a riempire con lo spazio lì, è corretto? Sì, esattamente questo. Guarda, la cosa è nata perché un po' ero stanco di fare il mestiere che avevo sempre fatto e volevo fare qualcosa di nuovo. Mi ero reso conto che c'era un grosso problema di competenze in Italia. Quindi io avevo da una parte, facevo fatica a trovare programmatori, facevo fatica a trovare persone che sapessero di coding e dall'altra parte avevo ragazzi che lavoravano nei call center, sottopagati, bravissimi. E dicevo, cavoli, qui c'è un problema di competenze, di orientamento della scuola, perché poi c'è anche un tema di orientamento e quindi della dispersione scolastica in Italia, che è molto grossa. E c'è un altro grosso problema che è il legame che esiste tra la scuola e le imprese in Italia, è il più basso in Europa. Anzi, è il penultimo, perché l'ultima è la Romania. C'è l'Italia, questi sono dati della Commissione Europea, l'Italia è il penultimo paese che è in grado di creare forti connessioni tra il mondo del lavoro e il mondo della formazione. Questo ovviamente è un problema perché ti faccio molta teoria, che è utile, ma poi non ti insegno ad applicarla nella quotidianità. Noi abbiamo fatto questo, siamo partiti dalle esigenze delle imprese, abbiamo costruito dei corsi, cosiddetti bootcamp, molto intensivi, quindi ti fai sei mesi dove ti fai un mazzo così, dove i nostri ragazzi, devo dire, hanno bisogno anche di sostegno psicologico perché devono lavorare tantissimo, però li formiamo e li formiamo non solo sulle competenze hard, ma sulle competenze soft, che vuol dire come si lavora in un'azienda, come si interagisce con le persone, poi gli mettiamo un coach a disposizione, finito il corso, che gli aiuta ad entrare in azienda. Lo chiamiamo coach, in realtà è più un buddy, perché fa questo mestiere, quindi ti aiuto ad entrare in azienda. E quindi sì, è stata una cosa un po' innovativa, in realtà siamo partiti da qualche cosa che gesteva già negli Stati Uniti, molto simile, e l'abbiamo attualizzato alle esigenze italiane ed europee. Hai citato la scuola, concretamente secondo te cosa manca alla scuola di oggi? Urca, questa è una domanda complicata. No, nel senso, immagino che… Ci arrestano. No, 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 se ne può parlare immagino potremmo fare una puntata di sei ore solo in questo. No, perché tu hai detto la scuola di oggi, cioè, forma le persone, però capisco quello che dici nel dire, anche perché io non l'ho finita molti anni fa, il liceo, la scuola, magari forma persone a cui poi mancano quelle qualità lì per riuscire a campare all'interno di un'azienda nel mondo del lavoro. Che scatto dovrebbe fare la scuola italiana secondo te? Ma sono tanti i temi. Provo un attimo a vedere se riesco a riassumerti. Il primo è il legame con la società, con la società intesa con le imprese, con la società civile. La scuola spesso è molto autoreferenziale. I modelli di insegnamento sono modelli che spesso, diciamo, dal punto di vista strutturale, sono ancora un po' ottocenteschi. Il banco, la sedia, queste cose qua. La tecnologia, soprattutto durante il Covid, ha completamente distrutto la percezione e come viene concepito l'insegnamento. I ragazzi delle nuove generazioni hanno una relazione con il contenuto digitale molto più veloce. Quindi tu hai un tema di professori che si sono trovati impreparati a gestire questo cambiamento. Professori che spesso non hanno il tempo, ma non per colpa loro, anche di formarsi sull'evoluzione della tecnologia, che è molto importante. Sono scollegati dalle esigenze delle imprese, della società economica, degli sbocchi professionali. Quindi ti formano su un modello che è fatto un po' a tavolino. Che non vuol dire che debba essere per forza, come lo chiamano gli americani, un vocational training. Cioè io non ti devo preparare solo per il mondo del lavoro, ma ti devo preparare anche per il mondo del lavoro. Noi invece facciamo una formazione che è molto dall'altra parte. Quindi magari ti dà un po' di capacità d'astrazione, ma poi ti mancano tutta una serie di cose che ti fanno stare più felice quando poi hai finito lo studio. E poi manca un tema di orientamento. Cioè spesso noi, i nostri studenti, arrivano anche dopo studi, anche dopo la laurea, che hanno fatto delle scuole superiori o delle lauree perché erano vicino a casa. Oppure perché il papà o la mamma gli ha detto di fare così. Questo ovviamente non è un orientamento. L'orientamento è una cosa seria che da noi è molto carente, in generale. Quando ci si butta in un'avventura come quella di EpiCode, tu hai capito, quando hai avuto l'idea immagino, quale fosse il problema da risolvere. Però poi quando devi passare all'atto concreto e quindi mettere in piedi questa cosa, trovare magari gli investimenti, trovare i collaboratori giusti di cui poterti fidare, che soprattutto capiscano la tua visione, come si fa? Innanzitutto la prima cosa sono tante notti insonni. Tante occhiaie. Tante notti insonni perché comunque… Però non si vedono ora. Beh, perché ho gli occhiali scuri oggi. No, 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 ma sei in grande forma. Ti ringrazio, sei troppo gentile. Ma allora, come si fa? Ci vuole un po' di incoscienza. Diciamo che le attività imprenditoriali o le fai quando sei più giovane e fai come te, mi raccontavi che hai finito il liceo e sostanzialmente tu sei imprenditore di te stesso, no? Cioè vai e cerchi di trovare una tua strada senza rete. Io ho stato fortunato perché sono entrato in aziende molto belle negli anni buoni e quindi ero anche in condizioni dove le aziende davano bene, un bellissimo lavoro, vanno bene, un contesto che mi piaceva e quindi ho continuato per questa strada. Come ho fatto? Un po' sono i casi della vita e in realtà è nata perché io avevo iniziato questo problema, un amico mi ha messo in contatto con un altro e da lì abbiamo creato la società. Però sì, un po' di incoscienza anche ti devo dire. Anche perché quando tu parti sai la direzione, cioè sai che vedi qualche cosa ma non sai cosa farai, come finirà, cioè non è mai come tu te lo immagini. Però devi avere perseveranza e l'intuizione che sia qualcosa che ti piace fare. E in quel momento di incertezza totale dove può essere tutto o niente, che cos'è che ti motiva al di là della passione? Che immagino, insomma, tenga in piedi tutto, questo lo sappiamo. Ma allora, guarda, lì in quel caso, anche se è una cosa che tutti lo dicono, però nel mio caso è stato, o tanti lo dicono perché è un po' di moda, nel mio caso è stato veramente così. Io volevo fare qualcosa che avesse un impatto positivo e allora, anche perché avevo una certa età, come dicevo prima, passando alla classica, ho detto ma voglio fare qualche cosa che sia un'attività imprenditoriale, che sia efficace, che poi produca anche dei soldi per gli investitori e per gli azionisti, per chi poi imprese e così, ma che abbia un impatto positivo sulla società. E la formazione è sicuramente una delle cose incredibilmente migliori per avere un impatto positivo, perché una società che non investe sulla scuola, che non investe sulla formazione, è una società decadente. L'Italia non è tra i primi paesi europei in rapporto formazione-PIL, in termini proprio di investimento. Se poi parliamo dell'efficienza del modello formativo, abbiamo molto da migliorare, ecco. Se io, stagista, oggi ti chiedessi, Ivan, togliamo tutti i lavori per cui è obbligatorio avere una laurea, quindi se uno vuole fare l'avvocato, se vuole fare il medico, lo psicologo, per il lavoro che faccio io, oppure se voglio fare l'imprenditore, oppure la mia ambizione è diventare l'amministratore delegato di una società, mi consiglieresti di fare l'università classica, per come la intendiamo, nel nostro paese? È una bellissima domanda, ovviamente. Ti direi di sì. se ti senti di studiare altri anni, comunque studiare è sempre bene. Fare l'università, dipende da cosa vuoi fare, ti suggerirei di scegliere le università che sono, che si distinguono per le eccellenze e le università che si fanno misurare. Il mondo della formazione, non solo, parliamo di quello americano che forse è più facile, si sta creando una grandissima polarizzazione tra le Ivy League, cioè quelli che si fanno misurare sui tassi di placement e la capacità di dare un ritorno sugli investimenti. Si comincia a parlare anche di quello... Quindi quanti poi effettivamente lavorano e fanno carriera? Trovano lavoro, sono soddisfatti e invece le università che alla fine non ti servono, o comunque ti servono a poco, e non solo per il rapporto transazionale, cioè trovo lavoro, guadagno bene, che ti servono a poco anche per aprirti la mente. Quindi ti direi sì, dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi fare l'ingegnere probabilmente... È fondamentale, certo. Probabilmente sì. Altra università dipende molto da te, però sicuramente ti dà. Poi come tu sai, ti raccontavo prima, noi stiamo lanciando un corso di laurea che è un bacio loro internazionale. Lo stiamo lanciando non solo in Italia, ma un bacio internazionale che abbiamo aperto la sede, lo stiamo lanciando da Malta. Da Malta perché comunque è una comunità europea, è un modello anglosassone, quindi ti permettono di costruire quello che si chiama syllabus, cioè il programma un po' più fatto per l'esigenza del mercato e quindi noi stiamo facendo una cosa che va un po' nella direzione di dire io costruisco un percorso formativo di cui c'è bisogno. Che non è che ti insegno solo... La nostra sarà una laurea in computer engineering e artificial intelligence. Vedi che l'intelligenza artificiale torna, l'intelligenza artificiale torna, sono tornato alle origini, quindi sono tornato per sentirmi giovane. Però sì, l'abbiamo costruita con le imprese e chi sono i professori che insegnano? Sono persone che lavorano nelle aziende, quindi quello che ti insegna mobile è il professore che è responsabile di mobile, che ne so, di meta. È quello che magari sarà il tuo capo un domani. Potrebbe essere, ma già oggi lui è responsabile del mobile. Quello che insegnerà intelligenza artificiale l'ho ingaggiato vedendo il documentario su Netflix che parlava di Neuralink, raccontava di Elon Musk, ma a un certo punto parla di Neuralink. Io vedo che intervista un italiano, un ragazzo sveglissimo, super simpatico di Parma, gli abbiamo scritto e abbiamo detto guarda abbiamo questo progetto qua che nasce da... siamo diversi italiani, non siamo solo italiani, è un progetto europeo, abbiamo intenzione anche di portare questo concetto su altri mercati. Gli dice guarda in Europa c'è questo problema di gap e di competenze e lui sarà quello che ci insegna, fa due esami, algoritmi e poi un altro che non mi ricordo, ma questo te lo dovrebbe dire il mio socio ingegnere. Comunque lui ci insegnerà intelligenza artificiale, lui era un ricercatore ed è molto bravo, quindi abbiamo preso i professori dalle imprese. Certo, è proprio un approccio totalmente diverso rispetto a quello più classico, accademico. Cos'è che secondo te un bravo CEO, un bravo amministratore delegato dovrebbe fare e cosa invece non dovrebbe assolutamente fare? Le prime due cose che ti vengono in mente? Allora, ascoltare e decidere con la propria testa, che poi in generale è la cosa più difficile della vita decidere con la propria testa, però sì, penso che l'ascolto è fondamentale perché poi io mi ci dedico tanto e anche mi affatico su questo, ma mi dà tantissimo, soprattutto ascoltare dalle persone che sono più giovani, perché sono quelli che hanno più capacità di innovazione, sono quelli che hanno più capacità di visione e quindi tendenzialmente, diciamo, le persone che sono attorno ai 20 anni, dai 20 ai 25 anni, sono quelli che tendenzialmente mi danno l'ispirazione maggiore. Noi stiamo lavorando un progetto collaterale che ce li hanno dati due nostri studenti, ci hanno fatto ragionare su un progetto sempre di intelligenza artificiale per fare training sui colloqui, ci hanno dato loro come analisi del bisogno. In quel caso lì, se ti interrompo, credo che una delle cose più difficili da fare nella vita, almeno per me così, è fidarsi e delegare alle altre persone, che credo siano cose che un bravo CEO debba essere in grado di fare. Quando tu hai tutto da perdere e un tuo collaboratore no, perché mal che vada lui si trova un altro lavoro, cioè come fai concretamente a dire devo fidarmi di lui, devo, anche se io ne so meno di lui devo, devo avere il coraggio di lasciarlo fare, lasciarlo operare in libertà. Perché a parole credo sia facile. Sì, però il facile ne è fatto è molto complicato. Devi controllarlo però. Devi controllarlo ma non solo per una questione di non fiducia, devi controllarlo perché tutti noi facciamo errori, come io chiedo ai miei peers, ai miei, diciamo, ai miei soci così, di darmi dei feedback e devi controllare e aspettare che lui ti dia dei feedback. Quindi devi dargli spazio e devi dargli la possibilità di portare a casa il lavoro, però ci deve essere un ritorno perché sennò lo abbandoni e non gli dai neanche la possibilità di crescere. Però non ti ho detto la cosa che non deve fare. Esatto, la cosa che non deve fare un CEO. Non te l'ho detta ma non la so. Che cosa non deve fare un CEO? Forse esattamente una cosa molto legata all'ascolto. non deve peccare di presunzione perché nella mia esperienza precedente, non come imprenditore ma come manager, mi è capitato di incontrare persone che confondevano la, diciamo, magari tu sei CEO di una grande azienda e loro pensavano di essere loro la grande azienda. Quando tu sei un manager sei un elemento di un grande organismo. Che può essere sostituito. Esattamente. Il credere che tu sei la comunità. Tu sei un membro della comunità, sei una persona che ha più influenza della comunità ma non sei la comunità. E tanti, io ho conosciuto gente che pensava che senza di loro il mondo finisse. Il mondo non finisce, grazie a Dio il mondo va avanti. Anzi, spesso, quando se ne sono andati alcuni che pensavano così, le aziende sono andate anche meglio. Quindi quello secondo me è un errore. Com'è la tua giornata tipo? Cioè, portaci nella tua agenda. Perché per dare un'idea proprio anche a tutti coloro magari vogliono scoprire un po' di più questo mestiere. Non so, magari ci ascolta una persona che lavora in ufficio. Quindi la mattina si sveglia, si lava i denti, sale in macchina, va in ufficio, entra alle otto e mezza, poi fa la pausa a pranzo e alle diciotto esce. È così anche per te, per uno che fa il tuo lavoro, oppure è diverso? Sì, guarda che le vite sono spesso molto simili. È intensa. Diciamo che la differenza quando sei un ceo e cerchi di fare bene il tuo mestiere è che passi a prendere decisioni molto diverse. Quindi tendenzialmente quello che devi fare è essere informato, devi conoscere bene e siccome sei chiamato a prendere delle decisioni, le tue decisioni hanno un impatto sulla realtà, devi cercare di far sì che le tue decisioni siano le migliori possibili. Quindi cercare di essere lucido, non sempre lo sei. Diciamo che io ho sempre lavorato molto, mi piace tuttora lavorare tanto, ma perché è uno dei motivi per cui anche forse ho cambiato, ci sto pensando adesso mentre parlo con te, ho cambiato a un certo punto la mia vita perché mi appassionava meno il mio lavoro. Uno deve essere appassionato, ti deve piacere. Io non ho mai sopportato le persone che si lamentano e non fanno niente. Cioè quelli che dicono, ah, guarda, un paio di giorni fa ero a cena con uno che mi diceva che fa il commercialista e si lamentava, diciamo, ah, un lavoro terribile, non mi piace, proprio va. E gli ho detto, capito, cambia, voglio dire, avevo una certa età, insomma, non ero ragazzino. Però se un lavoro ti fa schifo, devi cambiare, devi avere il coraggio di rischiare, devi fregartene di quello che dicono gli altri perché il mondo ha spazio, certo, lo devi fare con un po' di pensiero, però può fare. Questo è un consiglio di cui anch'io faccio tesoro perché mi rendo conto, parlando anche con i miei amici che hanno la mia età, quindi siamo ancora giovanissimi, abbiamo tutta la vita davanti, a parole dire di rischiare è sempre facile. Poi quando effettivamente ti ritrovi a dover uscire dalla tua zona di comfort, concretamente, è molto più difficile. Però quello che dici per me è una motivazione, spero che lo sia anche per gli altri stagisti all'ascolto. Io se fossi uno stagista oggi iniziassi a lavorare rischierei. Oggi secondo me il mondo di oggi rispetto a quello che ho iniziato io nel 94 ha delle difficoltà in più, ma anche delle opportunità incredibili in più. Per chi ha voglia di fare, di rischiare e di creare, tu oggi hai molti strumenti che ti permettono di creare. Volevo farti un'altra domanda legata a una cosa brutta che però un amministratore delegato deve saper fare molto bene, e cioè licenziare le persone quando magari non fanno bene il proprio lavoro. Come si gestisce quell'equilibrio sottile tra il doverlo fare perché devi fare l'interesse della tua azienda e il dispiacere di sapere che magari quella persona lì ci rimarrà male, che quella persona lì sarà in difficoltà perché ha bisogno di quel lavoro e così via. Questo è sempre molto complicato. Quello che io cerco di fare è di porre una grande attenzione alle persone. Licenziare le persone può capitare, però uno si preoccupa, di solito viene dato più enfasi quando licenzi uno che non quando ne assumi cinque. Può capitare, ma come in una squadra di pallone, in qualsiasi sport, può capitare che un giocatore lo sposti da una squadra dove non va bene e va in un'altra squadra e gioca bene. Questo fa parte della vita. L'importante è cercare di essere sempre trasparente con le persone, dare dei feedback, quindi se le cose non vanno dirlo subito, non far sì che sia una sorpresa, e poi capita nella vita, soprattutto nelle start-up, perché le start-up considera che partono e hanno degli stadi continui di evoluzione. Noi siamo partiti, stiamo crescendo vertiginosamente e quindi da famiglia siamo diventati una comunità, adesso siamo diventati un'impresa e quindi cambiano le dinamiche, cambiano le relazioni e non tutti ce la fanno a stare al passo con i tempi, con le esigenze. Quindi è come una squadra che passa dalla serie D alla serie C alla serie B e sono giocatori diversi. Qualcuno, molti riescono a salire e non tutti ce la fanno. E bisogna accettarle in un caso o nell'altro. Bisogna accettarlo. La trasparenza però è fondamentale. Guarda, io ci dico sempre, la trasparenza è una cosa che rompo le scatole ai miei su tutto quello che facciamo, ma anche nella relazione con gli studenti, l'autenticità. Cioè, se tu sei autentico, hai un inside out, cioè tu porti fuori quello che veramente ha l'azienda dentro, secondo me nel medio termine ti viene riconosciuto. Ti faccio le ultime domande prima di concludere questa puntata. Una cosa volevo chiederti, visto che abbiamo parlato di licenziamento, tutti noi, almeno io, nel nostro immaginario… Stai in zigare per noi. Ma l'ostagista giustamente deve avere un po'... È giusto, è giusto. Perché in questo caso poi sono anche l'ostagista che non può essere cacciato e quindi posso fare… No, ma non è una domanda scomoda. Perché siamo abituati a vedere i CEO come persone estremamente privilegiate, persone che guadagnano un sacco di soldi, che possono fare quello che vogliono, che sono in questo mondo fatato dove hanno il controllo di tutto. Che credo che in parte sia vero per quanto riguarda i privilegi, però capita anche a un CEO di essere poi licenziato, no? E quindi di perdere ogni tipo di certezza da un giorno all'altro e credo che poi le conseguenze siano altrettanto amplificate. Quel momento lì, non so se è stata nella tua carriera, ma è capitato però come si gestisce? Cioè come si ritrova la forza per rimettersi in gioco, convincere un'altra azienda che si è comunque bravi, anche se si arriva da una situazione difficile. Perché proprio perché il ruolo di potere è anche più grande la credibilità che magari vai a compromettere con quello che ci succede. Non so se… No, no, è chiaro. Ha senso. Allora, secondo me c'è un po' da dividere. Cioè quello che fa il CEO di una società ed è un manager è quello che fa il CEO che è anche founder di una società, che è quello che faccio adesso. Faccio il CEO, ma sono stato anche founder, quindi sono azionista. Questo non vuol dire che se non sono bravo come CEO, se io non porto i risultati, sarei il primo che fa un passo indietro perché è per il bene della società. E questo però è un passaggio diverso, no? Perché comunque tu sei azionista e sei anche CEO. Se c'è un CEO, cosa che io spero in futuro succeda anche il prima possibile, è più bravo di me e io sarei ben contento perché essendo azionista produce più valore e sono anche più contento. Mi è capitato di essere licenziato? Sì, mi è capitato perché non ci siamo trovati sulla visione e quindi mi sono messo anche nella condizione di questo, ma è stata la mia fortuna perché è stato quello che mi ha fatto capire che veramente dovevo fare un'impresa mia. Quindi è stata un po' una fortuna, è stata una sofferenza, sì, perché poi quando... ma non tanto perché ti licenziato, ma perché è sempre una sconfitta, è come un divorzio, è come quando finisce una storia d'amore, è sempre una sconfitta, no? Anche se poi dopo ne trovi un altro, un altro, quel che l'è migliore, però nel momento in cui finisce non sei mai felice. Io penso che come sempre queste cose della vita le affronti guardando sempre all'aspetto positivo, no? Vedendole come nuovi inizi, come nuove opportunità. Sì, cioè finisce quella cosa lì, vuol dire che... Era che era destino che andasse così e quindi cerca di vedere che cosa puoi fare e di concentrarti sui piccoli passi, no? Se io fossi in te e quindi in ostegista, mi darei sì l'obiettivo di lungo termine, no? Uno dice, io voglio fare il CEO di una società, voglio avere una mia società. Tranquillo che non è il mio caso, no? No, nel tuo caso. Però voglio diventare, voglio presentare il Festival di Sanremo, che potresti anche farlo tra quattro anni. Vabbè, lo dico, tanto l'ho già detto, è il mio più grande sogno. Ma ci arriverai, anche perché sei Ligure, quindi a quel punto la Liguria sarà in festa, sarà una Roma meravigliosa. Hai detto ci arriverai, inquadratemi fino a qui, così c'è una fase che non si può vedere. Ci arriverai, però ricordati che tutte le persone che ci sono qua saremo in prima fila. Assolutamente. Ricordati che noi saremo meglio a festeggiarti, anche perché sarà a breve. Ce ne sono così tante che secondo me non basteranno i posti del teatro Ariston, essendo molto piccolo. Certo, perché c'è tutti gli amici. C'è tutti gli amici. Vuoi fare il presentatore, vuoi arrivare a Sanremo? Bellissimo, ce la farai, sarà anche innovativo. Come ci si arriva? Ci si arriva concentrandoti a che cosa devi fare domani mattina. Quindi che cos'è che devo fare domani mattina, che è una piccola cosa che mi porta lì. Che spesso vedo, che capitava anche a me come errore, ma lo vedo anche negli stegisti, nei ragazzi giovani bravissimi che noi stiamo portando a bordo, devo dire, che fanno fatica, sono anche un po' spersi a volte, perché hanno tanti stimoli. Io ti sto dicendo questo consiglio. Concentrati su quello che devi portare a casa oggi e domani, perché è sempre la cosa migliore per raggiungere un risultato di lungo termine. Quindi fare bene questo podcast come lo stai facendo sarà un passo ulteriore per arrivare a presentare il Festival di Sanremo. Ivan, faccio tesoro davvero delle tue parole. Ti ringrazio. Siamo veramente alla fine. A queste due domande che ti faccio mi devi rispondere solamente con una o poche parole. Quanto devono durare le call al lavoro? Alle video call? Video call. Alle famose riunioni? Al massimo 30 minuti. Non ci si riesce sempre, ma quello è il tempo. Quando si occupa una posizione come la tua bisogna rispondere a tutte le mail di chi ti chiede consiglio, chiede del tuo tempo per fare qualcosa, ti chiede se può lavorare per te, oppure è ok a volte non rispondere alle persone? A chi ti chiede consiglio, chi ti chiede di lavorare per te, sì, sempre. Perfetto. Ultima domanda. Questa è una domanda che faccio a tutti gli ospiti dello stagista. in sole due parole, che stagista sei stato tu all'inizio della tua carriera e che capo sei tu oggi con gli stagisti che lavorano per te? Beh, ero uno stagista ambizioso, volevo fare, nel senso che mi piaceva, sicuramente era appassionato di fare cose. Penso di essere stato abbastanza bravo come stagista, ero molto attento, osservavo e cercavo di apprendere dagli altri il lavoro. come capo uno si vede sempre più bello di quello che è, quindi io penso di essere un buon capo, però dovresti chiederlo ai miei se sono un buon capo. Devo dire che finora, in tre, quattro anni, coesiste EpiCode, le persone rimangono... Nessuno si è mai lamentato. No, si lamentano come giusto che sia e io li ascolto, però le persone finora sono state tutte volentieri e quindi però non dipende quello solo ovviamente da me, ma dipende dal team che abbiamo, che è un team veramente di persone valide. Ivan, grazie perché ho imparato un sacco di cose ed è stata una bellissima chiacchierata. Grazie a voi, grazie a te e buona fortuna per il Festival di Sanremo, ricordati il posto in prima fila. Assolutamente. Di fianco al Presidente della Repubblica perché sarà lì anche lui. E al Presidente della Regione, a tutti, a tutti. Quello della Regione, tutti, tutti li prendiamo. Allora, segniamo, mi raccomando. Ringrazio di cuore Ivan Ranza per essere stato con noi allo Stagista Podcast.